Ben ritrovati Ottoliner, benvenuti, oggi appunto un grande ritorno, era da un pochino che non l'avevamo con noi, di Giacomo Gabellini, ci sembrava importante visto che appunto nell'ultima settimana, dieci giorni, ci siamo dedicati abbastanza ampiamente ai tre discorsi, diciamo, delle tre grandi potenze, concentrandosi quindi prima Russia, poi Cina e poi Stati Uniti, concentrandosi appunto sugli aspetti macroeconomici che venivano fuori da questi discorsi, che sono stati totalmente, diciamo, ignorati dalla stampa italiana, ma anche da quella internazionale, insomma, concentrandosi soltanto sugli aspetti politica internazionale, che poi in realtà nel bilancio di tutti e tre discorsi era secondaria, mentre invece emergeva un aspetto molto molto importante, interessante, complicato, contraddittorio, che è in qualche modo il ritorno in grande stile dello Stato, dello Stato che fa politica, dello Stato che fa politica industriale, si va da Putin, che tra l'altro ha ribadito oggi, no, ieri nell'intervista a Kislov, addirittura che vuole tornare, no, reintrodurre un sistema di tassazione progressiva, quindi diciamo la fase proprio prettamente liberale dell'amministrazione Putin in qualche modo è un po' messa nel cassetto, ormai il modello cinese in qualche modo a cui aveva già fatto cenno in passato Putin fa sempre, si fa sempre più largo, ma un po' di modello cinese si fa largo anche negli Stati Uniti, anche se con tutte le contraddizioni che poi appunto con Gabriele, con Giacomo cercheremo di approfondire, però anche il discorso di Putin è stato un discorso su tassare i patrimoni più alti, rafforzare il welfare state, mettere un freno ai cartelli a partire da quello di Big Pharma che appunto noi spesso lo sottovalutiamo dalle nostre parti, ma ricordiamo che il 15% mi sembra abbondante del PIL statunitense finisca in farmaci, cioè in farmaci e in sanità, una cifra sproporzionata che va tutta in una rendita proprio dei monopoli di Big Pharma, non ha niente di produttivo, è proprio un'estrazione di ricchezza improduttiva, evidentemente diciamo il modello che è stato quello degli ultimi 30 anni, che ha favorito un po' a tutte le latitudini, la rendita finanziaria a discapito dell'economia reale in una fase in cui insomma ovviamente la partita è quella del confronto tra grandi potenze, del conflitto tra grandi potenze, non se la può più permettere nessuno, cosa che ci dice appunto che è stato un furto, che è stato un furto che ha danneggiato il tessuto produttivo senza benefici e che appunto quando uno poi si propone degli obiettivi politici, quel furto lì non ci si può più permettere, sostanzialmente chi è più socialista vince in qualche modo, questo è un po' quello che emerge da questi tre discorsi e quindi niente, do la parola subito a Giacomo per partire da qui, è il trionfo del socialismo inteso non come, cioè inteso anche in senso anche nazionalsocialismo, è inteso anche in senso negativo, ecco, anche come social fascismo, imperialismo, tutto quello che gli pare, però lo Stato quando il gioco si fa duro è lo Stato che deve prendere in mano un po' il boccino, Giacomo, cosa ne pensi? Che il concetto che lo Stato fosse un elemento, una natura cruciale per la direzione economica è stato sempre un punto universalmente riconosciuto, solo negli ultimi decenni c'è stata questa tendenza ad attribuire al cosiddetto Stato minimo, cioè al ritiro strategico dello Stato dalla vita economica e sociale del Paese, delle funzioni altamente positive per la società nel suo complesso, per cui uno Stato poco invasivo, poco intrusivo, che si limita a gestire le funzioni meramente amministrative, sarebbe il supporto al libero e al pieno sviluppo delle potenzialità dell'iniziativa privata, individuale fondamentalmente, questo è stato un po' il mantra che ha tenuto banco a partire quantomeno dalla seconda metà degli anni 70, nella contro-rivoluzione neoliberale, chiamiamola così, che ha trovato in Margaret Thatcher, prima nel predecessore di Margaret Thatcher che era un laborista, Callaghan, poi Margaret Thatcher in Gran Bretagna e Ronald Reagan negli Stati Uniti. Quello di Ronald Reagan in realtà fu un progetto, un esperimento alquanto spurio, perché si fa un gran parlare di Stato minimo, in realtà sotto Reagan si verificò uno degli esperimenti di dirigismo statunitensi più colossali mai attuati, perché il rialzo dei tassi di interesse che attuò la Federal Reserve di Paul Walker nel 1979 fino al 20% richiamò ondate gigantesche di capitali da tutto il mondo che il governo, l'amministrazione Reagan aveva in progetto di investire per sostanzialmente riconfigurare la struttura economica degli Stati Uniti e quindi ricentrarla su due settori e da altissimo valore aggiunto che erano stati individuati nell'alta tecnologia e nella finanza. Quindi c'è stato soprattutto la Strategic Defense Initiative, che prevedeva per esempio il cosiddetto scudo spaziale, un lancio di investimenti coordinato da delle agenzie pubbliche, che si occupavano proprio di indirizzare questi capitali verso obiettivi specifici, che sono ottenuti dei successi colossali, si pensi soltanto a Internet, perché dopo, come spesso accade, le innovazioni di carattere militare vengono poi convertite ad uso civile e trovano fette di mercato considerevoli. L'idea all'epoca era quella di riorganizzare la distribuzione internazionale del lavoro, facendo sì che la capacità di progettare rimanesse, la testa insomma rimanesse negli Stati Uniti, mentre il braccio, quindi la produzione fisica invece venisse appaltata a paesi che erano in grado di offrire condizioni salariali più vantaggiose, quindi avevano serbatoi di manodopera a basso costo da offrire fondamentalmente, quindi la globalizzazione è un po' questo progetto che ha preso corpo a partire dalla fine degli anni 70, soprattutto ad rotosfogo negli anni 80. L'idea proprio per appunto era quella di riflazionare il potere declinante degli Stati Uniti rimperniandolo su questi due settori, quindi l'alta tecnologia e la finanza, che poi ha avuto anche delle ricadute di carattere socio-economico, perché per esempio abbiamo visto che con queste due attuando, facendo un riassetto dell'economia di questo genere, la ricchezza che gli Stati Uniti sono stati capaci di estrarre da tutto il mondo è aumentata enormemente, ma si è concentrata sulle due fasce, sulle due fasce litorale del paese, quella della West Coast dove c'è la Silicon Valley, eccetera, e quella della East Coast dove c'è Wall Street e c'è l'alta finanza, che sono un po' i due settori che quindi hanno tratto enormi benefici della globalizzazione, che però impiegano un numero di lavoratori estremamente ridotto, e quindi la parte centrale del paese che vivevano di produzioni tradizionali, agricoltura prevalentemente, hanno invece avvertito la concorrenza dei paesi più poveri del mondo, e molti di loro hanno anche conosciuto un processo di delocalizzazione degli impranti produttivi verso il Messico e soprattutto dopo il NAFTA del 1994, il Messico e il sud-est asiatico, che ha trasformato quell'area dei grandi laghi, in cui sorgono città come Detroit per esempio, da… Detroit era l'arsenale della democrazia, come lo ha definito Roosevelt, perché erano lì che venivano assemblati gran parte degli equipaggiamenti militari che sono stati inviati all'esercito statunitense e anche agli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi eserciti da fabbrica della democrazia, d'arsenale della democrazia, a Rust Belt, cintura della ruggine, che è caratterizzata da distese di impianti industriali dismessi in cui proliferano disoccupazione, criminalità, tossicodipendenza, eccetera. Solo Detroit ha perso, mi sembra, metà della sua popolazione nell'arco di pochi decenni. Però tutto questo progetto era stato messo in cantera attraverso una progettualità politica e un assetto di carattere di regista, che a loro piaccia. Prego. Non lo dovremmo far sentire ai bambini, però veramente hai spiegato chiaramente gli ultimi 40 anni in 10 minuti, quindi perfetto. Però la domanda che mi viene da farti è, ma questo qui è un meccanismo, secondo te, che è un meccanismo ciclico per cui si alternano fasi di economia più ordinata a economia disordinata e quindi quello che diceva Giuliano all'inizio è un nuovo ciclo, cioè ci avviamo verso un nuovo ciclo di intervento statale, oppure era un percorso obbligato perché gli Stati Uniti sono una potenza calante e le potenze calanti in quella fase lì per finanziarizzano, cercano di spremere fino all'ultimo. Cioè siamo davanti a un meccanismo ciclico e quindi gli Stati Uniti stanno arrivando a fine corsa, ora, oppure siamo davanti a proprio il tracollo dell'impero? Bella domanda. Io credo che queste fasi di finanziarizzazione, come le ha studiate, per esempio Brodell, Righi, Wallerstein, eccetera, forniscano un modello abbastanza valido per l'interpretazione dei cicli egemonici, perché è chiaro che se il capitalismo si caratterizza per, diciamo, si va imperniandosi ogni ciclo su una potenza egemone, poi questa potenza egemone segue tutta una traiettoria, una parabola che la vede scalare la piramide del potere mondiale attraverso la produzione fisica prevalentemente e quindi riesce a, che poi serve per la formazione dei capitali, fondamentalmente, ma questa, diciamo, questa formazione dei capitali attraverso la produzione fisica avviene quasi sempre a spese della potenza declinante che però era stata centrale nel precedente ciclo geomonico. Quindi noi abbiamo visto che, per esempio, l'Olanda si è industrializzata attraverso capitali spagnoli, la Gran Bretagna si è industrializzata attraverso capitali olandesi, gli Stati Uniti sono industrializzati attraverso capitali britannici e la Cina si è industrializzata attraverso capitali statunitensi. Questo quindi è un ciclo abbastanza interessante perché poi l'investimento all'estero diventa particolarmente vantaggioso e c'è sempre un periodo, una fase di questi cicli in cui le élite, so, per beneficiano, tendono a livello sia un po' strutturale, cioè per caratteristiche del sistema, che per loro caratteristiche individuali, ad adagiarsi sugli allori e a cercare di vivere di rendita, fondamentalmente. Quindi vediamo che, per esempio, dalla creazione e dalla generazione di livelli di potenza costantemente accresciuti, ai quali far corrispondere un benessere diffuso nelle varie classi sociali, si passa all'accumulo di denaro. Le élite del paese cominciano ad occuparsi sostanzialmente di quello e a trasferire, a farsi, ad assicurarsi che le redini del potere, i benefici che questa collocazione sociale garantisce, siano appannaggio della loro progenie. Quindi dal trasferimento di potere e ricchezza da loro ai loro figli. È un po' quello che è accaduto negli Stati Uniti. Noi abbiamo visto che c'è stato un processo di assottigliamento della piramide sociale, cioè la sommità della piramide sempre più esigua, controlla una fetta di ricchezza a cui corrisponde anche un potere di condizionamento politico sempre più ampia, al punto che ci sono dei privati che si costruiscono da soli le astronavi, che è una cosa che non si era mai vista, non si era assolutamente mai vista. E tutto questo, e qui torno un po' al discorso di prima, la globalizzazione ha creato dei mostri negli Stati Uniti. Quel sistema di riorganizzazione del lavoro internazionale promosso dall'amministrazione Reagan ha trasformato la Silicon Valley e Wall Street in due potentati giganteschi che sono abbarbicati ai loro privilegi e non intendono assolutamente di smetterli. Per cui nel momento in cui è emersa la necessità degli Stati Uniti di fare un passo indietro, o meglio, fare un passo avanti, ma tornare un po' a un processo precedente, cioè cercare di riportare le produzioni a casa, specialmente quelle nei settori critici che hanno un impatto a livello militare, ma non solo. L'alta tecnologia non basta mantenere dentro casa le fasi legate alla progettualità, occorre anche ancorarci la produzione fisica, perché le due cose non possono andare separatamente le une dalle altre. Lo si è visto in Cina. La Cina inizialmente si occupava solo di quelle, poi attraverso il reverse engineering, attraverso tutta una serie di capacità di ingegneria che loro sono stati in grado di mettere insieme attraverso i loro sforzi, sono riusciti a scalare rapidamente la gerarchia mondiale del valore aggiunto e adesso vediamo che la Cina, nelle categorie mergeologiche più importanti, quasi ovunque è in vantaggio sugli Stati Uniti. Anche sullo stesso settore decantato dei semiconduttori, la Cina ha compiuto dei passi avanti che sono tutt'altro che disprezzabili, in un contesto di crescenti, diciamo, un atteggiamento sempre più aggressivo da parte degli Stati Uniti attraverso dazi, sanzioni e pressioni internazionali di vario tipo. Quindi credo che ci sia una necessità da parte degli Stati Uniti di riavvarersi del potere pubblico per dirigere ancora una volta l'economia, quindi mettere i capitali e vediamo che il deficit statunitense sta letteralmente esplodendo anche per questo, perché comunque questa politica economica è particolarmente dispendiosa e soprattutto a tempi di maturazione molto lunghi. Per cui loro pianificano il discorso di Biden sullo Stato dell'Unione e accoltono il segno in alcuni tratti, cosa che mi ha sorpreso. Ero convinto che quando l'ho visto così baldanzoso ho ritenuto che avesse assunto qualche sostanza chimica per essere così scattante, così pimpante e anche così logico in alcuni passaggi. Mi sentite? Sì, sì. Ecco, perfetto, perfetto. No, mi chiedevo appunto una cosa... Ah, scusa, scusa, Gabri, perché ti ho detto... Vai, 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 vai. Sto facendo un casino della madonna. Vai tu, vai tu. Mi chiedevo se appunto in questa... diciamo il grosso punto di domanda che rimane, e io mi concentro, non so se perché è una perversione mia, ma secondo me nel senso... Giustamente te parli delle due fasce costiere, però secondo me c'è un rapporto comunque gerarchico tra le due fasce costiere. Nel senso, il Big Tech sì, ma la finanza è sovraordinata rispetto al Big Tech. Nel senso, cioè, la vera estrazione di rendita monopolistica è la finanza, che poi non vuol dire che insomma non ce ne siano altre. Il Big Tech è una di queste. Abbiamo parlato ultimamente abbastanza in modo approfondito di Varoufakis e di Tecnofeudalesimo, che è sicuramente un ottimo testo, che però appunto a me non convince in questo, nel senso che appunto lui parla del passaggio alla rendita, ma lo attribuisce principalmente al Big Tech. Noi parliamo del passaggio alla rendita, ma lo attribuiamo principalmente ai grandi monopoli finanziari. Quindi nel suo discorso, lui appunto ha picchiato dura ad esempio su Big Pharma, che ribadiamo è una componente molto importante dell'estrazione di rendita nell'economia statunitense, e però detto quasi niente in realtà sui monopoli finanziari. Quindi mi chiedo, diciamo questa svolta necessaria di carattere tra virgolette socialdemocratico di Biden, quanto si andrà a picchiare contro il muro dell'estrazione di rendita finanziaria, che sembra una cosa anche più potente quasi di Washington stessa in qualche modo. Ecco, quando dicevo che questa politica ha creato dei mostri, intendevo dire proprio questo, cioè che questi apparati, questi settori dell'economia, hanno necessità tassativa che gli Stati Uniti mantengano per esempio il dollaro al centro del sistema finanziario mondiale. E avere il dollaro centrale per quanto riguarda l'interscambio mondiale come riserva di valore, come principale riserva di valore a livello mondiale, significa in buona sostanza condannarsi ad accumulare ampi avanzi commerciali e quindi l'industrializzazione è largamente incompatibile con questo progetto, perché poi l'alta finanza per esempio richiede tutta una serie di caratteristiche, per esempio la stabilità della moneta, tanto per dirne una, che è una cosa che invece fa pugno anche in questo caso con le necessità dell'economia reale. Insomma, se è vero come è vero che gli Stati Uniti hanno deciso di privilegiare questo settore, adesso questo settore oppone una resistenza gigantesca ai processi di sganciamento che sono necessari, processi di riconfigurazione che sono necessari per riportare la produzione reale all'interno del paese e soprattutto comportano gioco forza un regolamento di conti interno a livello di rapporti di forza che sia maggiormente equilibrato e meno sbilanciato a favore di Wall Street. E quindi dovranno, ci sono come dicevo, degli interessi opposti giganteschi. Ben inteso, questa cosa sta venendo fuori anche in Cina e l'abbiamo visto, perché per esempio il settore finanziario in Cina stava soprattutto negli anni un po' disordinati, prima di Ang Zemin, poi di Ujintao, il settore finanziario aveva ottenuto spazi di manovra molto molto pericolosamente, mi viene da dire, ampi. Stava cominciando a fare quello che un po' gli oligarchi avevano fatto in Russia, cercava di avanzare pretese rivendicazioni di carattere politico, cercava di modellare la struttura, l'assetto istituzionale e normativo della Cina in funzione dei propri interessi. E al mio punto di vista l'ascesa di Xi Jinping va letta alla luce di questo processo, cioè all'interno della leadership del Partito Comunista si è fatta strada la convinzione che occorresse porre un freno radicale, anzi una retromarcia, a questo processo che ha portato enormi distorsioni di cui la crisi, per esempio, immobiliare ne è un'espressione, perché purtroppo questi settori parassitari hanno la capacità di distorcere tutta la struttura economica mettendola al servizio del settore che Michael Hudson definisce FIRE, Financial Insurance and Real Estate, cioè edilizia, assicurazioni e finanze. Questa triade che porta un'economia a uno stato completamente parassitario che mira a campare di rendita e vampirizza tutto il resto dell'attività economica. Con Xi Jinping si è assistito alla demolizione sostanziale di Alibaba, allo spezzettamento dell'impero di Jack Ma e in generale ha una messa sotto controllo di tutto il settore bancario che è sempre stato pubblico ma che aveva, soprattutto il settore bancario ombra, cominciava ad avere delle caratteristiche un po' pericolose. Quindi abbiamo visto l'inserimento di quadri di funzionari del partito specializzati in finanza all'interno di tutte le grandi, piccole, medie e grandi operatori del credito. Questo è un passaggio fondamentale perché il credito, come dicevo, indirizzare il credito significa scegliere che tipo di economia si vuole avere. Voglio ricordare che anche l'Italia aveva un settore bancario pubblico fino all'inizio degli anni 90 poi dei personaggi che guarda caso hanno fatto tutti una gran carriera hanno invece eseguito degli ordini che venivano stati impartiti loro dall'alto e hanno attuato delle privatizzazioni. Se l'Italia non cresce più da allora fondamentalmente un contributo a questo stato dell'arte lo si deve anche proprio al fatto che tutto l'intero settore bancario è stato privatizzato e poi con Renzi si è assistito addirittura al colpo finale col decreto che ha trasformato le banche popolari in società per azioni. Quindi le uniche banche che avevano un radicamento sul territorio e che finanziavano che si occupavano delle attività tradizionali legate al finanziamento della produzione reale sono state trasformate in società per azioni che fanno tutt'altro. Secondo alcuni economisti come Marcello De Cecco le banche too court non dovrebbero essere quotate in borsa perché essere quotate in borsa significa rispondere a una logica di breve termine che è del tutto contraria alle esigenze della produzione reale ma senza produzione reale un paese può dire addio alla sua potenza in un'ottica di medio e lungo termine. Questo all'interno del partito democratico statunitense ci sono dei vari personaggi che se ne sono accorti ne cito uno Jake Sullivan che nell'aprile scorso ha pronunciato un discorso molto interessante in cui tra le righe si leggeva una critica rispetto alle tendenze che avevano preso piede all'interno del paese che avevano portato a dismettere sostanzialmente alla produzione reale e al fatto che anche da un punto di vista meramente di rapporti di forza il settore militare dipendeva ormai quasi completamente da catene di approvvigionamento che in un modo o nell'altro venivano a dipendere dai rivali strategici degli Stati Uniti che sono la Russia e la Repubblica Popolare Cinese. Quindi insomma c'è un ragionamento che qui è una spaccatura credo all'interno dei settori dominanti degli Stati Uniti che vedremo chi la vincerà ma credo che sia una battaglia piuttosto aspra e che spieghi molto delle attuali tendenze contrapposte che si registrano all'interno del paese perché per un verso si cerce l'Inflation Redaction Act che è sostanzialmente quello cos'è? Un intervento pubblico in economia cioè tu cerchi di richiamare rubare mi verrebbe da dire perché è un po' se non l'avessero fatta agli Stati Uniti una legge del genere tutti avrebbero urlato alla concorrenza sleale eccetera noi invece vediamo che gli Stati Uniti erogano sussidi pubblici e sconti fiscali nei confronti delle aziende europee di alta gamma disposte a rilocalizzare sul territorio statunitense in una fase in cui gli Stati Uniti hanno un vantaggio competitivo dato dal differenziale di costi di prezzi energetici colossale e quindi mi pare che cerchino in buona sostanza di cannibalizzare l'Europa indurla spremerla e portare queste aziende allettare queste aziende europee a spostarsi negli Stati Uniti però c'è un però molto grosso quando tu perdi delle competenze che avevi acquisito per ricostituirle ci vogliono non è una questione da un giorno all'altro che è un po' secondo me quello che anche molte persone intelligenti tendono a sottovalutare anche lo si è visto per esempio con la produzione bellica si diceva eh vabbè ma tanto solo perché gli Stati Uniti non vogliono se volessero se avessero realmente intenzione produrrebbero dai 3 ai 4 milioni di proietti di artiglieria al giorno no non è così non è semplicemente così perché nel momento in cui tu hai dismesso tutte le intere filiere produttive perché lei è delegata all'estero rimetterli in sesto ricostruire tutta l'organizzazione produttiva riparire le figure professionali adeguate non è uno sforzo da poco richiede tempo noi abbiamo visto che per esempio si hanno sostanzialmente indotto torto collo la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation a spostare aprire uno stabilimento in Arizona e questo questo stabilimento doveva essere aperto già da un po' ma la stessa missione dei vertici dell'azienda non riescono a farlo entro i tempi previsti perché fanno fatica a trovare il personale adeguato all'interno degli Stati Uniti quindi il tempo non gioca al loro vantaggio perché nel frattempo gli avversari strategici il principale dei quali della Cina chiaramente ha macinato dei successi giganteschi da questo punto di vista la Cina sforna scusa se ti interrompo una domanda perché la cosa che mi domandavo era proprio questa abbiamo detto che Putin ha rilanciato una politica di intervento lo diceva Giuliano nell'introduzione ha rilanciato una politica di intervento pubblico ha fatto un discorso molto orientato al welfare addirittura quindi intervento dello Stato nell'economia gli Stati Uniti hai appena finito di dire che stanno più o meno con più o meno successo però ripuntano a questo la domanda che ti volevo fare è proprio questa qui l'Unione Europea è un po' al grande assente in questo scenario qua ma le nostre classi dirigenti non lo capiscono non ci arrivano cioè perché continuiamo a prendere una scelta autolesionista c'è cattiva fede? Allora credo che ci sia un po' di essere schiavi dei propri fantasmi mi riferisco a Germania in particolar modo e un po' ci sia la logica di subalternità la potenza dominante per cui la Germania anche nel periodo di massimo splendore chiamiamolo così che poi se si leggeva tra le righe è uno splendore più apparente che sostanziale perché quando la Germania esportava rotta di collo avendo costruito avendo trasformato l'intera Unione Europea in un appendice nel proprio apparato produttivo quindi su tre gambe posava il mercantilismo tedesco sulla strutturale sottovalutazione dell'euro rispetto alle caratteristiche della sua economia sul fatto di aver anzi sono quattro le gambe sul fatto di aver integrato nella propria catena del valore tutte le aree di prossimità geografica che buona parte delle quali facevano parte dell'Unione Europea ma non dell'Eurozona quindi avevano le monete nazionali erano legate all'euro a cambi svalutati quindi Repubblica Ceca Ungheria Polonia eccetera le produzioni di base o di livello intermedio sono state trasferite in questi paesi e anche nel nord Italia in buona parte che l'Italia da concorrente della manifattura tedesca si è trasformata terzista per conto della manifattura tedesca quindi la Germania si è imposta come hub industriale che trasferisce le produzioni all'estero da questi paesi e reimporta la componentistica l'assembla e la riasporta all'estero con le altre due gambe erano la legge ARS4 cioè quindi la moderazione salariale che è stata diciamo introdotta sotto il cancelliere Schroeder e l'altro era la disponibilità di risorse energetiche a basso costo garantite dalla Russia e poi era questo il sistema tutti questi avanzi commerciali che la Germania ha cominciato a macinare a partire dal 2000 2001 2002 in poi non sono stati investiti nella messa a punto nel miglioramento della produttività nel tentativo di dotare la Germania di specializzazioni nei settori di nuove generazioni diciamo del futuro per esempio l'alta tecnologia la Germania si è continuata a concentrare sulle produzioni tradizionali cioè l'automotive legato all'energia fossili soprattutto e un po' le attività in cui già era dominante ma non ha cercato di aprirsi nuovi mercati in altri settori perché in omaggio a una teoria ordo-liberista purtroppo che è qualquanto di più devastante dal mio punto di vista possa esistere secondo cui lo Stato è un po' lo Stato minimo lo Stato deve farsi soltanto garante degli interessi del mercato ma non deve interferire in tutto questo mentre invece come spiega la storia dimostra e lo stesso passato tedesco dimostra è un ruolo forte dello Stato che porta un paese a diventare influente potente economicamente performante e la leva del debito pubblico è fondamentale a questo scopo ma il Colazzo non fa altro che sottolinearlo questa cosa cioè se lo Stato si fa carico dei costi fissi e quindi si fa carico per esempio dei costi legati al welfare legati alla scuola all'educazione dei figli eccetera mette le condizioni il singolo cittadino il singolo imprenditore di fare impresa in maniera molto più agevolata e questo battimento dei costi di cui si fa carico lo Stato è fondamentale per porre una potenza nelle condizioni di crescere di affermarsi eccetera la Germania ha fatto l'esatto contrario la Germania ha riciclato tutti gli avanzi commerciali per diminuire il proprio debito pubblico ridotto sotto il 60% anche a costo per esempio di ridurre a un colobrodo la propria rete infrastrutturale non si sono nemmeno occupati di quello una stessa cosa ben intesa hanno fatto gli Stati Uniti perché c'era un'associazione degli ingegneri statunitensi che proprio attribuiva una valutazione poi la situazione dei ponti la situazione dell'autostrade eccetera degli aeroporti eccetera era qualcosa di tragico veramente uno stato di un logorio con per esempio le metropolitane New York che risalivano agli anni 50 40 in alcuni casi cioè insomma ci sono visti tutti i limiti di queste teorie in Europa però abbiamo ormai la tendenza ad andare a sbattere contro un muro a cercare la convinzione che facendo sempre la stessa cosa si ottengano risultati diversi per cui continuano e gli aiuti di Stato non devono esserci cioè questo è un po' il mantra ma poi anche se ci sono comunque bisogna bisogna contingentarli la politica che sta portando avanti politica monetaria che sta portando avanti la banca centrale europea che alza forse innatamente i tassi di interesse dal dove è appurato che la componente fondamentale dell'inflazione è data dagli alti prezzi dell'energia come definirla se non una politica suicida che sì in un'ottica meramente tattica rafforza i creditori questo è vero è stato detto sono d'accordo ma in un'ottica di medio periodo i creditori su quale territorio troneggeranno su un campo di macerie perché di questo di questo andazzo chiuderà l'Europa si priverà totalmente di una manifattura non ha un mercato dei capitali comparabili a quello statunitense quindi anche se anche nell'aspettativa di voler vivere di rendita le chance non è che siano poi così così ottimistiche per cui in Europa siamo in ritardo su tutto il ritardo più grave più pesante più impattante su tutto il resto è di carattere culturale perché rimaniamo ancorati a teorie che sono del tutto smentite dai fatti e sono anacronistiche nella maniera più assoluta e porta le classi dirigenti europee le inchioda a una sottomissione a una subordinazione a delle logiche esterne a cosiddetti vincoli esterni che stanno conducendo ormai da molto tempo il vecchio continente a un costante è un lento ma costante sotto sviluppo di fatto se si guarda quanto pesava anche dal punto di vista meramente nominale il PIL dell'Unione Europea solo qui 10-15 anni fa rispetto agli Stati Uniti e si guarda invece le performance che si sono ottenute adesso si vede che l'Europa è in contrazione in costante contrazione e soprattutto non ha non ha spunti gli Stati Uniti comunque per quanto siano declinanti il declino secondo me strutturale irreversibile mantengono punti di forza e punti di forza anche notevolissimi in tutta una vasta serie di settori critici l'Europa sta perdendo anche quello dell'automotive che poi più critico di tanto non è perché per esempio il settore delle automobili elettriche su cui hanno puntato con convinzione più o meno condivisibilmente più o meno tutti ormai è completo appannaggio della Repubblica Popolare Cinese per cui non so vedere la Germania ridotta così diciamo fa un certo effetto indubbiamente senti passiamo invece alle potenziali contraddizioni e debolezze degli altri due delle altre due potenze prima la Russia e poi la Cina la Russia abbiamo detto più volte appunto ha smentito in maniera clamorosa le proiezioni Fondo Monetario Internazionale sull'abbattimento del debito e poi ultimamente è riuscita a tenere botta anche a invertire diciamo al ciclo inflazionistico che era scaturito però da una debolezza che rimane che diciamo la tenuta del PIL era stata in gran parte dovuta alla conversione diciamo a un pezzo importante di economia in economia di guerra quindi oggi abbiamo un 7% del PIL che va in spese militari con diciamo tra l'altro con il problema che l'unico settore di trasformazione dove la Russia aveva un export importante che era quello appunto militare che invece ormai è completamente assorbito da una parte è completamente assorbito dall'interno dall'altra diciamo per i problemi delle sanzioni non ha più mercati di sbocca abbiamo visto mentre appunto l'export militare di tutti è cresciuto in maniera incredibile negli ultimi due anni quello russo invece è precipitato rimane ovviamente l'export di materie prime però anche lì ci sono un po' di difficoltà perché ad esempio ha dovuto fare molti sconti e ha dovuto diciamo legarsi dopo è mandata all'India trovandosi con delle rupie che poi non poteva fare altro che spendere in India insomma ci sono questi due colli di bottiglia e che sono quelli che vengono indicati in qualche modo si tiene il PIL però è economia di guerra e si ha rapporti ha trovato un altro mondo un altro mercato di sbocco però ha condizioni di praticare sconti molto importanti e bla 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 cosa quanto pesano queste contraddizioni e sarà in grado la Russia di risolverli beh gli sconti sono diminuiti molto comunque nel corso dei mesi adesso la Russia sta cominciando anche a diciamo a far valere il cresciuto potere contrattuale perché ormai siamo rimasti solo Federico Rampini forse a credere che l'Ucraina possa vincere la guerra credo per cui diciamo che quello che ha messo in cantiere Putin è un Putin la classe dirigente russa è un processo di riconversione economica epocale dal mio punto di vista che richiederà molto tempo perché aggiunga a compimento e che adesso è entrato in una fase critica cioè la Russia purtroppo per molto tempo è rimasta ancorata alle esportazioni di materie prime un po' per caratteristiche proprie un po' perché doveva comunque risollevarsi da un periodo terrificante che era quello degli anni 90 un po' perché continuavano ad avere un potere politico le oligarchie non indifferenti esatto ci stavo arrivando infatti per cui questi giovani ex membri del Comsomol Roman Abramovic Mikhail Khodorkovsky Boris Berezovsky Arkady Gaida Mikhail Prokhorov eccetera si sono impossessati attraverso un loro fantoccio come Boris Yeltsin e operazioni truffaldini come l'operazione voucher tanto per dirne una del patrimonio industriale minerario dell'Unione Sovietica nella fattispecie della Russia e hanno cercato di accumulare capitali nel modo più rapido cioè senza alcuno sforzo di carattere industriale cioè semplicemente appropriandosi con il sostegno della finanza anglo-statunitense di queste grandi aziende e accumulare denaro attraverso le esportazioni di petrolio di gas di palladio di ridio insomma di tutte le materie di rilevanza critica insomma quelli settori che hanno continuato di vertice a tenere il passo sono stato quello militare e parte di quello dell'alta tecnologia per esempio l'informatica in Russia è un settore molto avanzato insomma le scienze dure sono una la Russia è sempre stata molto avanti però ha sempre avuto una grossa difficoltà a mettere a regime queste conoscenze che pure ha sempre avuto per cui abbiamo visto che un po' come nell'epoca dell'Unione Sovietica per anni andava avanti con esportazioni di materie prime contro importazioni di impianti virgolette chiavi in mano quindi diciamo materie prime contro prodotti finiti che non è un sistema esattamente promettente è un sistema che porta un'economia diciamo un'economia a livello strutturale elementare e che ha ben poche prospettive di crescita ma legandosi mani in piedi all'occidente un po' il futuro era difficile che crearsene un altro che ciò che gli occidentali volevano della Russia era fondamentalmente quello e gli europei in particolar modo non tanto gli occidentali nel momento in cui e la guerra per questo è un fattore formidabile si pensa di riconfigurare l'economia e si cerca quindi di sostenere una crescita che sia maggiormente trainata dalla domanda interna e abbia una composizione dell'export meno dominata dalla componente materie prime materie prime ed energia occorre per lo più fare due cose quindi o ridurre o quantomeno ridiscutere le ragioni di scambio con l'occidente che erano fortemente presidiate da questi oligarchi che avevano tutti gli interessi in occidente tutti dal primo all'ultimo e che quindi con lo spostamento del baricentro del commercio estero russo da occidente a oriente insomma hanno avuto delle difficoltà di adattamento notevolissime che sono poi coincise con un crollo del loro potere contrattuale in seno al paese tu giustamente parlavi della svolta liberale che ormai è conclusa personaggi come Kudrin Alexi Kudrin che era stato ministero delle finanze ormai è totalmente uscito di scena recentemente anche i fautori delle privatizzazioni degli anni 90 come Anatoly Chubais e Gorgaidar hanno lasciato il paese è interessante per Israele tanto per dirne una e quindi si cerca di dare maggiore ascolto ai silovichi ai settori legati alle forze armate legati agli apparati della difesa e ad economisti come Sergei Glaziev che è un personaggio molto molto interessante che ha delle idee piuttosto direi mi verrebbe da dire quasi rivoluzionarie su tutta una serie di settori e che è un fervente critico del presidente della banca centrale russa che tuttavia è difficile imputarla insomma la politica monetaria russa ha tenuto molto bene in queste fasi però per Klaziev si sarebbe potuto fare molto meglio semplicemente rifiutandosi di ottemperare le logiche occidentali quindi liberali questo processo che adesso è portato avanti di riconfigurazione tramite l'industria militare fondamentalmente ha un po' replica quello che negli Stati Uniti ha cercato di fare Ronald Reagan cioè tutto il settore militare ha una serie di un indotto una serie di implicazioni che sono riciclabili a scopo civile indubbiamente e quindi il fatto che la Russia si doti di un internet proprio di un sistema internet proprio di tecnologie all'avanguardia in tutta una serie di settori parlavo prima dell'informatica questo indubbiamente è uno dei tanti è molto importante quindi la Russia sta camminandosi verso un sentiero di sviluppo diverso che come dicevo richiederà tempo e richiederà per l'appunto la costruzione di relazioni commerciali con i nuovi partner più equilibrate cioè per esempio secondo me se c'è un aspetto positivo che le sanzioni hanno avuto è un po' quello di fungere da è stata come una politica protezionistica cioè come se il Cremlino avessi innalzato barriere doganali che rendevano più difficoltoso il reperimento politica diciamo di sostituzione delle importazioni quindi bisogna cercare il più possibile di risolvere il problema con la produzione interna e questo è in buona il fatto stesso che la disoccupazione sia i minimi storici è importante perché significa che comunque diciamo c'è una produzione industriale che è stata rilanciata e tu parli di economia di guerra ma io credo che questo non sia un passaggio isolato la Russia sta preparandoci a tenere in piedi un esercito permanente di almeno un milione e mezzo di uomini e per tenere in piedi un esercito di questo genere non basta soltanto arruolare e mettere nelle riserve significa dotare di un equipaggiamento adeguato tutta questa massa umana a reggere dei confronti che potrebbero essere impegnativi perché l'Ucraina è una fase ma cosa ci cosa nega cioè quale garanzia abbiamo che dall'Ucraina non si passi a un livello successivo che possa portare il coinvolgimento della Nato la Russia deve essere pronta e quindi la Cina nel frattempo mezzo milione di uomini anche data la questione demografica come li mobilitano perché insomma c'è un problema demografico no mezzo milione un milione e mezzo ancora peggio insomma come fanno a mobilitare alla luce anche della presunzione c'è una questione demografica che poi le fabbriche ci deve tenere le persone a lavorare cioè servono persone che ci lavorano poi in quelle fabbriche nelle raffinerie come la rischia come secondo te è in corso anche un piano per affrontare questo tipo di emergenza esatto non parla di altro delle famiglie numerose le famiglie però quelli arrivano tra 30 anni capito cioè non è che te li dirvi da 5 ma è fra 30 anni che arriverà a compimento secondo me il progetto di Putin perché quello di Putin non è solo economico è una trasformazione della società russa se si guarda il ripristino per esempio quello è sempre stato abbastanza centrale ma non lo è mai stato così tanto il ruolo della religione nella cioè lui sta cercando di ricreare l'impero ma non le minchiate che dicono da noi ah cerca di ricostruire l'Unione Sovietica cose del genere no sta cercando di riconferire al paese una dimensione imperiale cioè perché nelle latitudini occidentali non si fanno più figli perché fondamentalmente si è smesso di credere in qualcosa ci sono svari studi c'è un libro di Emmanuel Todd che è uscito proprio recentemente in Francia la De Fée de l'Ossidane che parla proprio di questo cioè il fatto che la fiducia nel futuro e la religione è fondamentale rispetto a tutto questo è un elemento trainante per il rilancio demografico di un paese e quindi il fatto stesso che lui sia riuscito a ricostruire l'identità russa e ben inteso non su base di sangue come intendeva fare per esempio Zirinovsky ma su una dimensione diciamo di identità di appartenenza di tutti di tutte le varie etnie di tutti i vari gruppi a un'unica grande nazione per i russi sono più di 20 milioni di musulmani che non sono neanche slavi fra l'altro perché nel caos sono ben pochi sono slavi ma si sentono russi a tutti i livelli cioè il fatto che la battaglia di Mariupol sia stata condotta dai ceceni quello è un vantaggio quello è un capolavoro politico perché si pensa cosa era stata la cecenia negli anni 90 per la Russia cioè quello questo significa Putin sta cercando di fare questo cioè creare una società coesa capace di portare tutte le componenti a rimare tutte nella stessa direzione e questo darà i suoi frutti anche da un punto di vista demografico e il fatto noi abbiamo visto che vincere una guerra da questo punto di vista e la storia ci sono svariati esempi storici rappresenta un volano fondamentale perché trasmette alle popolazioni una una fiducia una capacità una fiducia nei propri mezzi nelle proprie possibilità future che poi più o meno immediate può avere più o meno immediate ricadute sull'ambito demografico quindi è un è un progetto molto ambizioso di cui l'economia la società sono tutte parte integranti tutto si tiene insomma io credo che per questo abbia deciso di ricandidarsi un'altra volta ultima cosa la Cina l'inghippo diciamo più anche nell'immediato non sto andando diciamo sui tempi lunghissimi sui tempi lunghissimi appunto ci sarebbe da fare una riflessione su questo nuovo spinta sul discorso nuovi nuovi fattori di produzione eccetera che però ci porterebbe un po' oltre però c'è un inghippo un po' immediato che è quello nella volontà di mantenere un livello di crescita insomma ben al di sopra della crescita mondiale si sono ridati l'obiettivo del 5% come l'anno scorso in una fase in cui appunto c'è da fare i conti con il crollo più che il rallontamento di tutto il mercato immobiliare che pesava per circa un quarto della crescita del PIL insomma negli ultimi 30 anni riusciranno che appunto non si vuole diciamo la Cina avrebbe tranquillamente gli strumenti per arginare il crollo immobiliare ma per farlo dovrebbe appunto destinare una quota a parte la ricchezza nazionale alla rendita e appunto a continuare un po' come abbiamo fatto noi e soprattutto come hanno fatto gli Stati Uniti con Obama nel 2008 e invece insomma cerca un po' di andare un po' trovare una via mediana tra queste due esigenze quindi che la crescita non crolli ma allo stesso tempo che continui questa operazione di ristrutturazione del ruolo dell'edilizia e del comparto immobiliare nell'economia cinese anche perché hanno la necessità di in qualche modo convincere i risparmiatori cinesi a investire invece che nelle case magari anche in borsa insomma in altre attività che possano essere messe a disposizione dell'economia produttiva ce la faranno? è una sfida abbastanza importante perché ricordiamo che in Cina non hanno mai avuto un welfare per decenni e questo obbligava le famiglie ad accantonare più risparmi possibile in vista di possibili problemi tanto per dire sanitari quindi è un dato per cui diciamo tendenze così consolidate a livello sociale non si vincono da un giorno all'altro per cui occorrerà lavorare ma per farlo ci sono degli stimoli per esempio un sistema sanitario universale ribererebbe che è quello un po' che dice sempre Michael Hudson per tornare a quello che dicevo prima cioè lo Stato si fa carico di quel settore quindi pone i cinesi nelle condizioni di spendere buona parte dei risparmi che hanno magari spendere a scopi produttivi non comprandosi case da dare in affitto perché quelle sono cose che non portano a vivere di rendita e sono cose sempre da stroncare per cui un'allocazione dei capitali diversa che magari porti attraverso il credito pubblico soprattutto a un riciclo dei risparmi cinesi a scopi di produzione interna è sicuramente l'obiettivo del partito comunista cinese anche qui ci vorrà tempo dal mio punto di vista e per farlo soprattutto bisogna completare il processo di taglio delle unghie al settore finanziario e immobiliare per cui questo regolamento di conti andrà avanti anche a costo di sacrificare una parte della crescita economica perché se non si porta fino in fondo questa partita i problemi rimergeranno più avanti e se rimergeranno più avanti non è detto che la Cina abbia le possibilità le capacità sia nelle condizioni di poter correggere le strutture come sempre riuscite a fare finora tutti i vari profeti di sventura della Cina che ogni 3-4 mesi pronosticano il crollo immediato imminente eccetera e che sono stati poi costantemente smentiti vorrei richiamare la loro attenzione sul fatto che questo paese ha avuto una straordinaria capacità di crescere a ritmi vertiginosi e di apportare di volta in volta correzioni alla traiettoria originaria che questo la dice lunga anche su tutta una serie di pregiudizi che noi abbiamo se fosse vero che è un totalitarismo in cui comanda una sola persona se comanda una sola persona non si apportano correttivi di quell'entità a un processo già preesistente in un paese così grande con interessi così diversificati significa che all'interno del partito comunista c'è un dibattito molto aperto e che ci sono leadership c'è una classe dirigente ben fuorreparata ben formata che soprattutto ha contatto con la popolazione e questo credo che sia la risorsa principale che viene a mancare in tutti i paesi occidentali noi abbiamo delle diciamo delle classi dirigenti che sono delle aristocrazie fondamentalmente che non hanno alcuna contezza di come vivere il resto della popolazione che sono emblemizzate dall'articolo di Allen Elkan quando era andato in treno fino lì in Puglia questo è il livello delle nostre classi dirigenti per cui credo che la Cina abbia ottime possibilità di portare avanti questo progetto e che secondo me porterà avanti anche a costo di sporcarsi abbondantemente le mani perché come negli Stati Uniti questi settori molto difficilmente accetteranno di consegnare le armi e di ridimensionare la propria influenza ma dovranno farlo perché ne va del futuro del paese per cui credo che da 5-6 anni Xi Jinping e i suoi collaboratori saranno concentrati in questa ridefinizione degli equilibri interni e nell'arco di 10-15 anni vedremo se riusciranno a indurre a convincere i risparmiatori cinesi che sono 700-800 milioni a investire parte dei propri risparmi in destinazioni alternative a quelle che portano alla speculazione immobiliare io credo che abbiano buone chance per farcela la mia domanda conclusiva è che appunto questa traiettoria che abbiamo disegnato ho cercato un po' di disegnare però ha una caratteristica comune appunto nel caso cinese ad esempio diciamo lo strumento principale di diplomazia è quella economica e quindi diciamo la diplomazia fatta tramite Davos in qualche modo quindi quella di dire guardate i vostri mercati sono bolliti la Cina continua a crescere noi siamo l'unica opportunità economica che avete e in questa prospettiva qua in qualche modo invece è una prospettiva più di chiusura rispetto a questa cosa qua e di concentrazione cioè quando ti dici rinuncio a crescere rinuncio alla portata del mio strumento diplomatico che in qualche modo fino ad oggi ha tenuto botta da una parte dall'altra parliamo di Putin che è appunto un grande esercito una grande reindustrializzazione trainata dal comparto militare dall'altro gli Stati Uniti riterritorializzazione politiche industriali attraverso una nuova ondata neoprotezionista insomma sono tre grandi potenze che si si arroccano un po' su di sé in qualche modo questa cosa qua porta necessariamente a un conflitto come si fa a disinnescare la traiettoria di un conflitto da visti queste cose strutturali io ringrazio sempre Giacomo perché è uno dei pochi con cui si può parlare di struttura e ti voglio bene per questo perché qui si parla spesso di soldatini a me dopo un po' i soldatini mi rompano i coglioni diciamo che in questi si profila uno scenario quasi neoprotezionistico perché per esempio c'è il cosiddetto il concetto del cosiddetto friend shoring cioè il fatto che questi paesi stanno costruendo soprattutto gli Stati Uniti in realtà stanno cercando di riconfigurare le catene da provvigionamento e quindi c'è una corsa spasmodica da giudicarsi diciamo i fornitori più adeguati per cui per esempio un paese come le Filippine o l'Indonesia sono diciamo corteggiati come pochi altri perché averli dalla propria parte in uno scenario come quello che va configurandosi quindi di elevata conflittualità e che porterà per l'appunto la costruzione di sistemi di catene di fornitura che facciano perno sugli alleati di comprovata fiducia per esempio gli Stati Uniti faranno perno in maniera crescente sull'Australia sull'Anglosfera in generale ma avranno naturalmente bisogno anche di altri paesi per l'appunto le Filippine che sembrano averle ormai reggimentate e anche l'Indonesia ci stanno provando ma l'Indonesia ci sono molti più problemi perché siamo un leader vi dodo che è un personaggio abbastanza interessante cercava di costruire un OPEC del litio e quindi dal mio punto di vista ci sono questi nuovi paesi che stanno attirando attraverso l'organizzazione BRICS tutti i grandi fornitori di materie prime li stanno convincendo che attraverso una coalizione sia possibile ridiscutere le ragioni di scambio con l'Occidente e quindi porre i produttori nelle condizioni di estorcere a coloro che sono interessati agli occidentali che sono interessati alle loro materie prime a pagare prezzi molto più elevati prezzi non soltanto meramente economici ma anche prezzi politici per esempio la Cina è interessante questo si è recata tra il 2021 e il 2022 in Iran e nel Consiglio per la Cooperazione del Golfo e non è andata semplicemente ha promesso investimenti direttamente in loco quindi in Iran in Arabia Saudita in Oman in Yemen no in Yemen scusate in Oman in Kuwait eccetera nelle filiere industriali locali cioè cercano di porre questi paesi nelle condizioni di occuparsi di tutta la filiera petrolifera dalla prospezione all'esportazione di prodotti petrolifere ad alto valore aggiunto quindi questo è un segnale molto molto interessante che questi paesi non sembrano aver colto al volo quindi o l'occidente va in questa direzione e promette cose analoghe oppure sarà completamente tagliato fuori e la lista d'attesa che c'è nei BRICS è indice di quanto questi paesi siano interessati a queste prospettive che si vanno stagliando e che diventano sempre più realistiche per un effetto il fatto che la Russia sta tenendo testa da un punto di vista economico e militare all'occidente nel suo complesso rispetto al conflitto in Ucraina perché il conflitto in Ucraina ha avuto un effetto che è sottovalutato da gran parte delle persone ha ridotto ridimensionato enormemente la deterrenza dell'occidente e la deterrenza è tantissimo perché la deterrenza sta nella percezione altrui e permette a chi le esercita di ottenere ciò che vuole senza muovere sostanzialmente un dito adesso vediamo che tutti i colpi di Stato in Africa la Francia ha ridotto ai margini il fatto che tutti questi paesi non abbiano aderito alle sanzioni contro la Russia il fatto che si stiano mettendo a punto sistemi di pagamento alternativi allo SWIFT insomma la dice che questi paesi credono che un altro mondo sia possibile e il vero collante di BRICS è dato proprio da questo secondo me dalla volontà di costruire un mondo alternativo in queste condizioni la conflittualità internazionale difficilmente può non salire ma è che l'Occidente che dal mio punto di vista è chiamato ad adattarsi a queste regole che stanno cambiando il problema è che questi personaggi continuano a ragionare con la mentalità degli anni 90 come se il mondo non fosse cambiato da allora e quindi i parametri le regole che loro ritengono che continuano ad applicare al mondo d'oggi sono tragicomiche per un paese per paesi per classi dirigenti che non sono abituati a sentirsi dire di no insomma non è molto semplice specialmente se in queste classi dirigenti ci sono i neoconservatori quindi c'è insomma da tenere sott'occhio la situazione ma credo che l'Occidente in un modo o nell'altro sarà costretto a alterare e modificare sostanzialmente il suo approccio nel fatto che negli Stati Uniti siano emergendo delle non so se chiamarle elite perché ormai qui l'elite presuppone anche a un livello di raffinatezza eccetera invece sono dei personaggi abbastanza allucinanti ma che stanno emergendo delle persone più legate alla produzione reale in tutta una serie di settori significa che da qualche parte diciamo la presa d'atto che occorre apportare delle modifiche sostanziali al dispositivo statunitense all'estero soprattutto ci sono e in Europa invece continuano a ter banco personaggi come Borrell che parlano di giardino e di giungla in una fase in cui l'Europa è la canna del gas e deve andare in giro per il mondo a mendicare l'energia perché se no non riesce nemmeno a mandare avanti i riscaldamenti quindi Gabri se vuoi ultima domanda e poi chiudi guarda proprio una domanda flash perché hai parlato insomma della crisi che sta vivendo la Francia in questa fase però poi la Francia in realtà si sta molto molto sbilanciando sta diventando molto aggressiva in queste ultime settimane sul fronte dell'Europa orientale accordi con l'Armenia accordi con la Moldavia manderemo soldati occidentali in Ucraina la domanda che ti faccio è secondo te è un blef o è anche un modo un po' per compensare questa crisi magari anche davanti all'opinione pubblica francese la seconda che hai detto è interessante vedere che anche i cosiddetti sovranisti francesi che somigliano sempre di più a quelli italiani con l'Assemblément nazionale che praticamente sta quasi allineandosi alle posizioni di Macron significa che questi sono la canna del gas perché non hanno nelle colonie sono stati nelle ex colonie sono trattati a pesci in faccia e in queste colonie sventano le bandiere russe è un dato abbastanza interessante c'è un crollo a livello interno come mi ha spiegato bene il mio amico Guido Soerno Aletta in Francia Macron ha fatto una cosa ha cercato ha dichiarato guerra ai due punti di forza della Francia che sono le forze armate e soprattutto la burocrazia pubblica nel momento in cui tu distruggi la burocrazia pubblica quel paese l'hai condannato probabilmente non dico al dissolvimento ma la Francia avrà davanti a sé periodi di disordini sociali molto molto grossi a sfondo etnico in particolar modo che perdureranno per molto tempo e diciamo accompagneranno il paese nel suo declino con una opinione pubblica che magari ha ancora dei caratteri revanchisti Macron ha cercato indubbiamente di fronteggiare questa crisi del consesso interno ma anche la crisi che la Francia ha a livello internazionale chi se la fila più la Francia cioè che peso ha quello che dicono i leader francesi Macron in una fase iniziale del conflitto russo-crino era sembrato quello più aperturista chiamiamolo così era quello che aveva invitato a riflettere su dove ci stava portando questo conflitto adesso se ne esce con queste dichiarazioni che però sono tragicomiche perché la Francia non è assolutamente non è minimamente nelle condizioni di imbarcarsi in un'avventura di questo genere quindi credo che siano minacce a uso interno che servano un po' per rinfrancare una società che ormai è molto abbruttita e soprattutto è scoraggiata e sfiduciata nel futuro in una fase in cui sembra che le periferie di alcune città stiano cominciando a dare segni in ebollizione e abbiamo visto cosa può succedere quando questi problemi raggiungono il punto critico come dicevo credo che la Francia avrà davanti a sé diversi decenni di diciamo di elevata conflittualità sociale mettiamola così Gabri chiudi ok va bene allora io ringrazio Giacomo è stato come al solito insomma abbiamo spaziato Stati Uniti Europa Cina Russia abbiamo fatto proprio un quadro generale come dice Giuliano poi approfondendo il settore economico in modo proprio completo quindi è stata una bellissima chiacchierata quindi ringraziamo Giacomo Gabellini chiaramente il canale è Giuliano quindi onnipresente il nostro maestro e un saluto a tutti quanti di Ottoliner ricordatevi di iscrivervi al canale al canale inglese e a tutti i nostri social Instagram Telegram TikTok andateci perché solo questo ci dà voce andate ciao alla prossima ci vediamo fra pochi minuti con la rassegna stramba ciao a tutti ciao 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 ciao